Ok, benvenuti qui a Sposa Sicilia 2019, siamo nella fantastica cornice di Taormina. Questa macchina che vedete si chiama Asicla ed è una tipica macchina italiana, la Fiat C500, però addobbata a caretti siciliani. Come potete vedere è unica del suo genere e che altro dire, non ci sono parole, ammirate voi questo splendore.